Nuova puntata di Asi World lunedì 5 giugno alle ore 20.45, interamente dedicata al circuito tricolore. Giro di Sicilia, di nuovo un grande successo per il giro targato Asi. Coppa della Perugina, edizione al bacio in attesa del centenario del 2024. Coppa dei Gentleman Sardi, il circuito tricolore sbarca in Sardegna. Ricordate, Asi World TV è visibile su Sky Sport canale 229, su Digitale Terrestre canale 68, su TV Sat 55 e visibile in replica quotidiana e sul web a partire dal martedì. Grazie a tutti.